Il mio nome è Fabio Sabatini, da Monsummano Terme, Italia. Ho cominciato a cuore all'età di 6 anni, mio padre era un ciclista. Nella mia prima corsa mi chiamavano i mini sprint perché era una volata di 100-150 metri. Io ero dal mio zio e ricordo benissimo che lui mi disse ma cosa fai oggi? Dico io vinco e poi ti porto il mazzo dei fiori, infatti così è stato. Il prossimo anno è il settimo anno e ho delle responsabilità. Da quest'anno ho un bambino quindi ti senti le responsabilità, il doppio che poterò avere l'anno scorso.